ti saluto con la pace del signore buongiorno e buona domenica appunto domenica 22 di settembre 2024 questa mattina sono sempre più convinto che dio parlerà al nostro cuore e lo farà per mezzo della sua santa e divina parola quindi vogliamo fare una preghiera prima di iniziare chiedere a dio di preparare il nostro cuore per poterla ricevere quindi voglio invitarti a chiudere i occhi e pregheremo così insieme il padre nel nome di gesù cristo per mezzo dello spirito santo così come la bibbia ci insegna alleluia signore dio nostro vogliamo dirti grazie con tutto il cuore grazie perché anche oggi ci hai concesso la vita grazie perché anche oggi ci dai questa meravigliosa opportunità questo privilegio questo onore di poter accostarci alla tua presenza ascoltando la tua parola i consigli che vengono dal tuo cuore e noi siamo qui desiderosi di questo quindi ti vogliamo pregare di parlare ai nostri cuori signore ti prego dacci una parola fresca che possa consolare che possa benedire che possa fortificare che possa incoraggiare secondo il bisogno di ognuno di noi ti prego signore di benedire ognuno dei miei fratelli delle mie sorelle ognuno di coloro che in questo momento stanno guardando questo video che la tua benedizione possa arrivare nelle loro vite in maniera abbondante e coviosa signore ti ringraziamo e ti chiediamo ogni cosa nel nome di gesù amen la parola del signore viene rivolta ai nostri cuori in questi termini gesù ha pregato per i suoi carnefici dicendo padre perdona loro perché non sanno quello che fanno testo che troviamo nel vangelo di luca capitolo 23 verso 34 ed ancora ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del padre vostro che è nei cieli testo che troviamo nel vangelo di matteo capitolo 5 versetto 44 e 45 il titolo di questo messaggio è proprio questo amate i vostri nemici un professore cristiano chiede ai suoi studenti di citare una frase di gesù ed essi rispondono amate i vostri nemici quei giovani per lo più increduli trovano inconcepibile l'appello di gesù ad amare i propri nemici è impossibile del realizzare so affermano come potrebbe dio esigere un atto così contrario alla nostra natura umana e allora carissimo ascoltatore non è con le nostre forze che possiamo amare coloro che ci fanno del male ma mediante la potenza dello spirito di dio amare i nostri nemici anche se ci maltrattano significa rimuovere dal nostro cuore ogni risentimento e desiderio di vendetta lasciando che dio lo riempia del suo amore dio nostro padre ci invita a imitare lui che è amore poiché dio fa levare il suo sole sopra i malvaggi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti chiunque dice gesù può amare i propri amici i figli di dio tuttavia sono chiamati a un livello superiore vivere l'amore di dio davanti a tutti gli uomini senza distinzione e gesù ci dice ancora pregate per quelli che vi perseguitano egli stesso è l'esempio supremo di questo amore incondizionato quando sulla croce circondato da una folla animata dall'odio prega il padre dicendo padre perdona loro perché non sanno quello che fanno grazie alla preghiera noi andiamo verso il nostro nemico ci mettiamo al suo fianco e imploriamo dio per lui proprio come scrive dietrich bonhoffer teologo tedesco morto nei campi di sterminio bellissimo messaggio sicuramente dio ha parlato al tuo cuore come al mio cuore quindi ora sta a te fare la tua decisione e muoverti nel senso che dio ci sta indicando ma come ho fatto già altre volte in questo versetto che abbiamo letto vorrei soffermarmi un minuto massimo due per dirvi una cosa giusto per non entrare in aspetti fuori dottrina ti ricordo che quando gesù disse perdona loro perché non sanno quello che fanno non stava perdonando tutto il mondo no in quel momento gli unici che non sapevano realmente quello che stavano facendo ma lo dovevano fare obbligatoriamente perché erano sotto autorità sono i romani i soldati coloro che lo hanno ucciso c'è coloro che hanno piantato i chiodi coloro che lo hanno appeso sul legno coloro che gli sono stati vicino affinché lui aspettassero che morisse sono loro che gesù guardandoli dice perdona loro perché non sanno quello che fanno perché altrimenti si pensa alcuni pensano che gesù sulla croce abbia perdonato tutti padre perdona tutti perché non sanno quello che fanno e a questo punto non avrebbe alcun senso il la predicazione sia di gesù sia degli apostoli e ossia la predicazione che dice ravvedetevi convertitevi chi avrà creduto sarà stato salvato chi non avrà creduto sarà condannato sarebbe tutto inutile c'è tutto un parlare a vanfera e quindi invece non è così perché gli apostoli la prima chiesa lo potrò lo puoi trovare nel libro degli atti degli apostoli predicavano il ravvedimento la conversione perché perché gesù non aveva perdonato tutti indistintamente no lo aveva fatto ai romani ai soldati che lo stavano uccidendo quindi se oggi tu desideri ricevere il perdono di dio sei tu che devi accostarti a dio nel nome di gesù e chiedegli perdono chiedegli di salvarti chiederti chiedegli di aiutarti a cambiare vita e poi iniziare a cambiare vita e camminare nelle via nella via di gesù questo devi fare va bene spero di non essere stato troppo lungo e troppo invasivo ma questo è ciò che la parola di dio afferma e noi predichiamo cos'è con questa parola parola vivente ed efficace ti saluto con la pace del signore dio ti benedica e buona giornata e buona giornata